ma che cazzo gli ho fatto male ci sono ci sono io don't worry bro one of the best player in call of duty don't worry guys easy delta fucking storto forze buongiorno a tutti belli e brutti ma di brutti non abbiamo solo belli noi siamo un po le missioni da fare qua prima missione dovrei uccidere mi sembra sei operatori con la usi che ne siamo fatto tra l'altro molto forte dovrebbe essere fortissimo a starma i colpi non sono troppo forte infatti forse ho fatto la massata potenzialmente vedo un po se mi dice già qualcosa qua se io c'ho una missione da fare qua vabbè intanto ci senti che fatica che fa il persuaggio mio perché non apro la palestra aspetta qua c'è uno ma dove va questo donna mia quanto è forte bro non c'ha senso ah poi ho visto un'altra cosa qua dopo ve la devo far vedere ragazzi è devastante spappolato letteralmente questo ci troviamo questo ci troviamo questo ci prendiamo fortissima st'arma raga st'arma qua fidare equipata così è non ha senso non ha senso di esistere raga zero senso allora quindi la missione abbiamo preso il suo donna di là ci prendiamo subito qua c'è gente ma che cazzo gli ho fatto male ma st'arma no raga ragazzi raga fermi tutti però ragazzi ma che cazzo che ho fatto ma quanto ho urlato va ho urlato talmente tanto bro che mi si è intoppato il collo oh che cazzo mi si è intoppato il collo vale ti giuro mi si è urlato talmente tanto e mi si è intoppato il collo chiaporacci però rega quelli da mi hanno pushato come dei pazzi bro con quelle siringhe sono troppo forti bro che ti fanno ti fanno istantaneamente curare c'è gente qua i vetri dovrebbero farli un po' meno trasparenti cioè effettivamente non si vede neanche che sono trasparenti i vetri missione easy queste sono missione facilissime vedi che comunque ti danno il tuo reward e ti porti a casa il tuo bottino e stai nel chilling vado così allora io dovrei aver fatto le missioni vedi qua ti dice estrai con un assalt rifle to zero down e una submachine e anche una submachine quindi devo prendere assalto rifle e submachine assalto rifle e submachine dovrei essere a posto qua poi questa l'ho fatta e questa qua con i kit che devo trovare in giro che non si trovano ovviamente che devo farla piano piano la missione del medico di trovare qualcosa è bello che ti dice pure le missioni quando premi M nella mappa eh quindi poi vi faccio vedere un'altra cosa importante che prende dei soldi dei player quindi vi faccio vedere come funziona comunque i suoni si sentono troppo bene pure che? non ti preoccupi ragazzi non ti preoccupi ci sono io non ti preoccupi bro uno dei migliori player in call of duty non ti preoccupi ragazzi easy easy sweet love you guys love you easy we don't die we don't die today we don't die today my friends we don't die today appreciate you my bro appreciate you sentili sentili tutti i casati distrutti questo però manco io eh ma starmetta bro ma starmetta che ho fatto raga quindi voi pensate subito a prendere il magazine e cose così cioè le cose che c'hanno no le cose che c'hanno nell'arma appena vedete qualcosa di buono fucciate tutto cioè detto così pare brutto però vabbè ma avrete capito guys I have to exfil unfortunately I have to exfil love you have a nice day bye bye thanks to you guys bye 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 have a nice day oh guarda community eh guarda community eh qua sono tranquilli eh chiamolo bluh guarda un po' qua che c'è ahah 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 qua c'è qualche chiave o qualche passaggio ma dove vado qua ancora più giù che c'è qua oh l'ho scoperto qua raga fermi tutti guarda tipo un passaggio ok ok si estrae chi si estrae dalla lotta è ingraffiata la mignota via ah c'ho una missione qua eh high value wall breaker che roba è qua oh che è qua oh 30.000 raga questa è nuova di missione raga 30.000 questa qua andiamo qua andiamo qua mai vista eh non la vedo io aspettiamo ti metti il piglio riusciamo a passare un attimo là che proprio cioè la mia sfida sta proprio qua guarda si può passare a sinistra prima tu vuoi passare a destra? eh perché dovevi investigare lei poi possiamo subito andare via vabbè io spero che non ci fanno con la missione però no corro 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 sparano già andiamo insieme andiamo insieme è rischioso c'è gente raga dentro c'è gente passiamo da destra da sinistra destra piano piano c'è gente vera eh ricarico dentro a sinistra e subito smoke avanti e andiamo dritti e andiamo dritti vai fatto uno parto da sopra 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 buono dove 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 qui c'è l'invest c'è arriva dietro uno eh buono curati io controllo destra raga controllo destra ok dove ok dove l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto uno è sopra uno è sopra sopra ancora o l'hai mandata ci sei aspetta aspetta busto aspetta che tiro le bombe ho fatto uno buono fuori un altro era botta gg gg brava brava raga let's go let's go così veloci così bam 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 no ma raga mi hanno preso una missione raga vedete vaffanculo però raga con la missione tocca vando a fa vabbè qua abbiamo fatto un botto però eh ma chi è un botto però ho preso uno zainetto del merdo l'altra troppa un oggetto ultra raro tocca andare là non famogli fare la missione a quelli c'è un team che sta a fare con la missione centrale andiamo andiamo hai investigato hai investigato si 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 buono 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 mi sembra che era qua al centro e non so come funziona quella missione però non mi è mai capitata tenere il boost per i fight tenere il boost per i fight raga finisce che spotta stanno qua raga eh stanno sicuramente a fare il missilone eh ancora non l'hanno fatta raga perché ancora c'è il boss no è qua la missione no no non è quella non è quella non è quella non è quella è una cosa qua che devi attivare devi breach a qualcosa ok potrebbero stare qua sopra la missione occhio eh ah la roba di razzi c'è gente? è vera? si gente vera gente vera gente vera gente vera bustatevi 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 smocca vado avanti smocca vado avanti mi sono buttato eh sto con te ma c'è tu no? c'è cato no da me fatto un altro fatto un altro il terzo non ne manca un assist siii bravi bravi smocca 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 magari arriva un altro team resto 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 guarda ok guarda ok subito che aspirapolvero mamma mia che pisellare che hanno preso questi guarda ok dove ci mette guardalo io farei l'ultima missione qua e poi andrei via che dite? eh piccolo non vorrei rischiare perché io sono pieno di loot ah vabbè allora andiamo via andiamo via no poi vabbè raga cadaveri qua da me pieno 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 arrivo non so come si esce ma che c'è qua raga qua c'è qualcosa raga e là si esce dai e là si esce no 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 col cacchio col cacchio che si esce raga qua ci sono attritati ci sono delle statuette dei televisori qui proprio gigante nell'inventario bro ma qua tipo è un cavo eh eh qua è un cavo ma guarda guarda può entrare nelle vents qua tipo bello quanto è adesso se ci trovi uno qua pazzesco come fate ad entrare da eh ma guarda l'estrazione sto no vabbè bro guarda qua che posto bro da qua puoi sparare è fortissimo qua è fortissimo sto posto guarda qua non sprega i colpi non sprega i colpi non sprega i colpi chi di me oh guarda che figasa l'estrazione esce e ti butti tipo oh oh 15 minuti ragazzi eh questa qua madonna mia 16 bombe ragazzi mannaggia oh che non è qua ho proprio un'altra volta portato in spalla ragazzi non ce la faccio più se ne pesanti non ce la faccio più io c'ho 31 anni ma qua non vorrei dire nulla è però l'unico che andava a terra